ragazze e ragazzi oggi sono ritornata qui con un nuovo video con un nuovo vlog e domenica non è sabato ma e oggi è la mia comunione quindi se farò il vlog la mia comunione ora sto con l'abito monacale perché tra poco andiamo in chiesa e mi prendo la comunione e sì e quindi ecco una volta finito saliamo sopra mi cambio tutti prendono i dolcetti tutto quanto e poi e noi quindi ci vediamo dopo ma poi vi dico questa casa sta cavando niente sono noi abbiamo un amico che ci ama Si ama, si ama, si ama. Lasciate la sola, ok bellissima, toccati un pochettino il vestito, con l'altra mano ti tocchi, un'altra devo mettere i miei dadi, bravissima, guarda il vestito di me, ancora, aspetta un'altra, Ok, auguri! ... ... ... Ok ragazzi siamo ritornati Ora sto in macchina e stiamo andando al ristorante Qui ci sono io, mio padre, la mia migliore amica Giulia e mamma lì dietro E ora andiamo alle cascine verdi per il ristorante di cui dove dovremmo mangiare ovviamente Oddio sembro che ho un cappello in testa Secondo me dopo dovremmo fare anche le critiche sul cibo Ma tu non stai bene quella cosa? Ma che fa? Diciamo io Ok E va bene noi ci vediamo penso al ristorante Ciao Ragazzi siamo al ristorante abbiamo mangiato un sacco ma un sacco di roba E ora stavamo vogliono usci e ora dovremmo giocare Qua c'è mia cugina Martina, qua c'è mia cugina Martina, qua c'è mia cugina Vincenzo, qua c'è Giulia, qua c'è la mia migliore amica Marta Ok E quindi dovremmo fare un video mentre giochiamo Allora ora la prima sarà Margherita Ok ragazzi siamo ritornati, qua c'è una rompiscatola di animatore e ora dobbiamo giocare a cartone Che bene noi ci vediamo Ora l'animatore la fa prendere le cartone Comunque è quello di... E' rompiscatola di peccuccio Ragazzi vi voglio dire una cosa Venite alle cascine verdi soltanto per mangiare ma non per giocare Ovviamente sta ricerciando E ora stanno a prendere le cartone E' andato a prendere le cartone E' andato a prendere le cartone E' andato a prendere le cartone Giulia, da dove vi sento questo? Voi lo fai E' una cosa Sono colpi e farò una magia in una giravolta Cominciamo ed ecco sono bellissima sto scherzando ecco qua sono di nuovo in Messina la cucina qui c'è la mia mia amica qui c'è mia cugina qui c'è mia cugina Martina e Vincenzo manca Giulia guardate la città qui niente niente oddio la mia migliore amica dovete sapere che non fa bene con la città ah oh yeah no a via 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 via